Stramo è importante parlarsi, dirsi tutto. L'amore si nutre anche di parole. Se non parli come fai a esprimere i tuoi sentimenti? Mi piaci, ti bacio. Non mi piaci, te meno. Sto bene, resto. Sto male, vado via. C'è la moto. Ecco, ho espresso. Voglio sapere se questa storia è importante. Perché? Perché io mi sono messa in gioco per te. Parlami l'amore, è stramo. Non lo so fare. Chiedimi qualcosa di più facile. Se non mi parli, come fai a dimostrarmi il tuo amore? Non lo so, vuoi che scippi una borsetta che ti piace? Che scriva ti amo sull'asfalto? Che legga un libro per te? No. C'è una cosa che puoi fare. Guarda che qui non si fuma. Era già accesa. Che cosa posso fare per lei? Voglio che la signorina Germogli non abbia problemi agli esami. E cerchi di essere gentile con lei. La signorina Germogli verrà trattata come merita. Allora le dico una parola sola. Pocino. E che significa? Porcino. Chi è? Pocino. Non la seguo. Pancito. Pancito? Che cos'è fatto il mio pancito? Ok bestione, visto che dovremo convivere per un po' di tempo, mettiamo in chiaro le regole di casa. Primo, non voglio casino. Ci siamo capiti. Quando io ti lancio una casa, tu me la riporti. Vai. Bene. Sei fame? Chiami pronto pizza? Qui c'è il numero. Da qualche parte troverai il telefono. Se devi fare i tuoi bisogni, il bagno sta sempre lì, in fondo a destra. Ah, dimenticavo. Pancito, le chiavi. E abbiamo una copia sola, le metto qui. Ritz. Swam. Fa come deve fare.